La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa, oggi venerdì 12 novembre, partiamo come di consueto con i titoli del mattino, andiamo a vedere. La prima pagina, Mattarella allontana il bis, non c'è la rieleggibilità, il ricordo di Leone, lui come già segni chiese di blindare il settennato e il presidente firma il contratto dell'affitto di un appartamento ai Parioli. E poi sempre di taglio alto la manovra e per il sud, welfare, sgravi e concorsi, intervista al ministro Carfagna, ora la sfida è con l'Europa per tagliare il costo del lavoro. Sul centro pagina concordi un po' di furbizia il metodo de Mita per Cossiga e gli intrighi del Quirinale, l'elezione del 1985. E poi la corsa dei contagi, più 37% in sette giorni, nord a rischio giallo, in Germania 50.000 positivi al giorno e l'Olanda rischia un nuovo lockdown sul fronte vaccini, Napoli 200.000 senza prima dose, record di quarantenni. Di taglio basso, frane e costoni pericolanti, Capri si sta sgretolando, l'SOS del sindaco, servono più risorse. Lasciamo la prima pagina ma rimaniamo sempre sul mattino, proseguiamo. Il primo piano sulle riforme in questo caso. Welfare, più diritti e fondi per le imprese, tanto sud in manovra. La ministra del Mezzogiorno Mara Carfagna si supera finalmente il principio della spesa storica. Tutti i comuni avranno le risorse per il 33% di posti nei nidi nel 2027. Vediamo nel dettaglio. Con un sorriso risponde Mara Carfagna ad un'apposita domanda. Tutte le misure da noi proposte dalla proroga al 2022 del credito d'imposta dagli ulteriori 50 milioni per il fondo complementare delle aree interne alla possibilità di spendere altri 23,5 miliardi del Fondo Sviluppo Coesione sono state pienamente recepite. Anche la manovra, insomma, in linea con il lavoro già fatto per il PNRR, il fondo complementare, conferma che l'attenzione del governo per il Mezzogiorno resta elevatissima e senza precedenti. Quando si parte e con quali risorse? Se risponde la Ministra, dopo 20 anni, al di là delle risorse che pure sono importanti per gli asili nido e il trasporto degli alunni con disabilità, è stato affermato un principio di enorme importanza. Si inizia ad attuare una disposizione costituzionale rimasta finora solo sulla carta. Finanziamo cioè per legge un'offerta di posti ai nido sotto la quale nessun comune italiano può scendere. 33 posti ogni 100 minori tra i 3 e i 36 mesi e una svolta attesa da milioni di bambini e di madri del Mezzogiorno. Superiamo così il principio della spesa storica e consentiremo a tutti i comuni di avere le risorse necessarie. Poi tra gli altri temi toccati, decontribuzione, non c'è un piano B, vogliamo convincere la Commissione dell'Unione Europea che è la soluzione più efficace e dice poi stiamo lavorando per raddoppiare la dotazione dei 2.800 profili tecnici previsti dal concorso Sud. E ancora c'è l'intervista ad Antonio De Caro. Mi hanno promesso che entro Natale ci sarà la riforma dell'abuso d'ufficio. Il presidente dei sindaci dice gli impegni presi in assemblea da Cartabia e la Morgese lasciano ben sperare. Lasciamo anche questa pagina e adesso la prima pagina dedicata a Salerno e provincia, sempre per il mattino ovviamente. in apertura, nei guai i furbetti del Green Pass. L'ASL scova 50 falsi vaccinati iscritti nella piattaforma, tutti segnalati alle forze dell'ordine. Accessi abusivi con le credenziali degli operatori degli hub, lo scandalo parte dall'agro nocerino e c'è lo scenario contagio in aumento, oltre 150 al giorno, ma nel resto della regione va peggio. Sempre di taglio alto sul fronte scuola, un'occupazione dopo il diploma, rivincita di tecnici e professionali. Di lato la sentenza. Rifiuta il voucher, chiede il rimborso, il giudice di pace gli dà ragione. E poi abbonamenti, stop infopoint, i dipendenti rischiano il posto. Sul centro pagina la tragedia di Eboli. Rose bianche per Greta e Vincenza. In centinaia per l'ultimo addio a madre e figlioletta. E cambiando argomento. Ecco i consiglieri. La prima assemblea entro dieci giorni. Voto, concluse le operazioni di riconteggio. Oggi finalmente la proclamazione degli eletti. Telenovela finita dopo un mese. La deadline nel 22 novembre. Entro quella data dovrebbe tenersi il primo consiglio comunale del Napoli-Bis. Ovviamente a Salerno. Concluse ieri le operazioni di riconteggio. Da parte del seggio unico centrale. Sindaco Nacopoli che dice. Polemiche inutili sul seggio centrale. Coop ai lavoratori non offro garanzie. Di taglio basso il calcio. La Salernitana. Tifosi in confusione sull'altalena dei prezzi. Gondo e Ranieri suonano intanto la carica. Ora solo finali. Salvezza. Lasciamo momentaneamente il mattino. E ci spostiamo sul quotidiano La Città. L'apertura. Green pass falsi. Violato il sistema dell'ASL. Già scoperti 50 casi di contraffazione. Gli hacker hanno utilizzato le chiavi di accesso del personale dell'azienda Salernitana. Primo fascicolo alla procura di Nocera. Inchiesta aperta dopo la denuncia del responsabile di un hub vaccinale dell'agro. E poi i funerali di Enza e Grete. Il parroco accusa. Sono le vittime della strada killer. Ad Albanella. Favori dal tecnico. Sigilli a 20 case. A Bellizzi. Droga. Patto tra clanni. Il PG. 170 anni di cella. E poi a Salerno. Dipendenti Coop. Napoli ora frena sulle riassunzioni. A Nocera inferiore lotti bloccati. A rischio 150 posti di lavoro. E a Pagani danni erariali. Gli ex politici devono pagare. Poi di taglio basso c'è l'intervista. Rocco Ant. Salerno tra amori e cicatrici. Nuovo album. Rappresento quelli come me. E per lo sport. Angri. Derby. Stop. Il sindaco ha chiuso lo stadio. Ed ora invece il quotidiano Lecrona che andiamo a vedere. Il titolo di apertura. Per i lavoratori delle Coop Tempi Bui. Il sindaco non garantisco per il futuro. Venerdì di fuoco per Napoli. Incontro con Lucarelli per tentare di rimediare gli errori di Tringali. E alle 12 la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. Il primo cittadino dice faremo il possibile ma sotto la testata torna il design. Una due giorni promossa da Confindustria. Poi esposito settore balneare nello sconforto. Ma c'è la proroga fino al 2023. E sul fronte Covid in aumento i casi nel Salernitano. In provincia sono 120 positivi al giorno. 800 a livello regionale. C'è l'intervista. Poi vaccino sperimentale. Il dottor Bozza volontario a Cuba. E il fatto, il commosso ricordo del Premier Draghi a Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica. E c'è l'intervista Cagni, doppio ex della gara. Si parla di Salernitana, Calcio, Riberì, Trascinerà e Granata. E ora ci spostiamo su un altro quotidiano, il quotidiano del Sud. La prima pagina. Il primo piano in apertura sulla pandemia, il Covid, avanza a mille casi. Attacco hacker all'ASL, falsificati Green Pass, poi attribuiti a non vaccinati. Record di positivi in Campania, ieri 153 infetti nel Salernitano. Scattate le operazioni di sicurezza e ritirati i certificati non validi. Massima vigilanza, intanto. E poi più ricoveri, scuole dell'agro in quarantena e cambiando argomento, 77 navigator, ora rischiano il posto di lavoro. E sul centro pagina, oggi alle 12, la proclamazione dei consiglieri eletti, ma i PM indagano. Si parla di Salerno e verbali in bianco e preferenze, dubbie relativamente alle ultime amministrative. Noi adesso invece ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma torniamo tra poco con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Tra poco. Ben ritrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Ritorniamo sul mattino e sulle notizie dedicate al Salernitano. Vediamo. In primo piano il caso al comune di Salerno. Voto, telenovela finita. Ecco i consiglieri eletti. Assemblea in dieci giorni. Concluso il riconteggio delle preferenze. Oggi proclamazione nel Salone dei Marmi. In aula dieci esponenti dell'opposizione. E le donne diminuiscono. Sono solo sei. La deadline nel 22 novembre, entro quella data che dovrebbe tenersi il primo consiglio comunale del Napoli Bis. Concluse ieri le operazioni di riconteggio da parte del seggio unico centrale, è prevista per oggi la proclamazione degli eletti. L'appuntamento è a mezzogiorno nel Salone dei Marmi. I neoconsiglieri dovranno sottoscrivere un documento che attesti che dalle elezioni non sono sopraggiunti motivi di incompatibilità. Dopodiché vi alla conta. Nell'arco di dieci giorni la nuova assise dovrà riunirsi. Così, a un mese dal primo consiglio comunale svoltosi nella città di Milano e a ben oltre due settimane dal primo consiglio di Roma capitale, Anche la città di Arechi darà alla sua gente un parlamentino. E proseguendo, saranno sei gruppi di maggioranza, almeno due per Barone in Cognita Sarno, con Fidi insieme a Ventura o da solo. In aula, entro il 22 di novembre, come detto, Loffredo guiderà la prima riunione ed è il favorito per la presidenza. E cambiando argomento, bufera giudiziare, la procura accelera, richiesta accorta dal GIP, giudizio immediato per Izzo, l'uomo del messaggio Whatsapp. La procura di Salerno presenta la richiesta, il GIP l'accoglie, fissato il giudizio immediato per Gianluca Izzo, assistito dagli avvocati, Vincenzo Falella e Dalino Laurino. Izzo, ricordiamolo, il marito di Alessandra Francese, la prima dei non eletti della lista progressisti per Salerno, ed era stato arrestato per aver chiesto di inviare un Whatsapp, ritenuto dalla procura minatorio, a tutti i componenti della Coop per far votare la propria compagna. E sempre sull'argomento elezioni a Salerno, Napoli, il sindaco rieletto, sui seggi solo polemiche infondate, Coop ai lavoratori non garantisco risultati. Il primo cittadino ospite di Confindustria, Salerno du design, ma tenteremo di dare una risposta occupazionale. Lasciamo questa pagina, ma rimaniamo sempre in questo contesto. La tragedia di Eboli, in questo caso. Palloncini e orchidee per l'ultimo saluto a Greta e Vincenza, in centinaia funerali di madre e figlia. Morte nell'incidente lungo la statale 19, il papà in lacrime con la foto della bimba stretta al petto. Due le comunità in lutto, quella di Eboli e quella di Battipaglia. Rose e bianche, orchidee sui feretri della piccola Greta e della madre, Vincenza Vallone, 38enne e bolitana, che hanno perso la vita tragicamente dopo l'incidente stradale, accaduto martedì mattina lungo la strada statale 19, tra Eboli e Battipaglia. Centinaia di persone ieri mattina hanno partecipato ai funerali della bimba di due anni e della mamma, celebrati da padre Alfonso Raimo, nella chiesa San Bartolomeo Apostolo ad Eboli, insieme ad altri quattro prelati. Il papà della piccola Greta, carabiniere in servizio alla stazione di Brienza, in provincia di Potenza, è entrato in chiesa con la foto della figlia stretta tra le mani e si è inginocchiato pregando dinanzi ai feretri con il viso segnato dalle lacrime. Ai piedi dell'altare una gigantografia di Vincenza Vallone e le bare circondate dai fiori, mamma e figlia unite nella morte dell'atroce destino. Il giovane a bordo dell'altra auto coinvolta nello schianto è indagato per omicidio stradale e durante la funzione padre Raimo si è rivolto alle istituzioni dicendo vi chiedo di mettere in sicurezza quella strada così pericolosa. E proseguendo e cambiando argomento, abusi sul nipote, a processo il nonno, vi racconto il calvario di mio figlio, la mamma si accorse dei comportamenti anomali del bambino di sei anni e denunciò deposizione shock in tribunale. Lasciamo anche questa pagina ed ora la pagina dedicata alle aree interne della provincia sud di Salerno. Andiamo a vedere. Per il Vallo di Diano tanti lutti nell'ultima settimana. Sarà lutto cittadino per Rossella Define, il Vallo Piance, Sorirma e Lucas da Silva. Giorni tristi nel Vallo di Diano per alcuni lutti che per un motivo o per un altro hanno colpito diverse comunità. A Montesano sulla Marcellana, a causa di un malore in casa ha perso la vita nella frazione Tardiano, una mamma di 25 anni, aveva due bambini. Ennesimo lutto per la comunità guidata da Giuseppe Rinaldi che negli ultimi mesi ha dovuto piangere diversi giovani. Rinaldi è indetto per la giovane mamma il lutto cittadino, per tante mamme volate in cielo, purtroppo presto, per tante giovani strappate prematuramente alla vita per chi per una ragione, per chi per l'altra e bisogna andare avanti per una comunità comunque sgomenta come quella di Tardiano, attonita e profondamente addolorata. Interpretando questi sentimenti dispongo per la giornata di domani, in occasione dell'eseguo della giovane Rossella Defina, il lutto cittadino, invitando ad esprimere i piccoli segni ma di grande vicinanza, di cordoglio ai cari e alla comunità. Nei giorni scorsi anche la fiaccolata per ricordare d'ora la greca, un mese dal suo tragico decesso a Potenza. Lutto cittadino anche a Polla per il giorno dei funerali celebrati ieri di Suor Irma, figura storica del paese. E infine è stato celebrato due giorni fa il funerale del 24enne di Sant'Arsenio, ritrovato privo di vita in un appartamento a Polla. Le indagini proseguono, ma ora sono solo le ore del dolore. Anche l'amministrazione di Sant'Arsenio, in una nota firmata dal sindaco Donato Pica, ha voluto esprimere il cordoglio per la morte del 24enne, padre di un bambino di soli 4 anni. La tragica scomparsa di Lucas Da Silva ha scosso tutta la comunità, dinanzi a una giovane vita repentivamente stroncata, dinanzi alle lacrime e al dolore della mamma, della sorella e del fratello, prevale l'umano sentimento della comprensione e della solidarietà alla famiglia e il cordoglio dell'amministrazione comunale. Ed ora cambiamo pagina e anche argomento, si parla di sport e di salernitana. Saranno tutte finali, Salerno spettacolare, Gondo e Ranieri presentati al meet and greet, l'attaccante promette il massimo per la salvezza, doppie sedute e richiamo di preparazione, Frank Riberisi gestisce, cessione, offerte entro il 15. Vediamo, ecco il richiamo di preparazione, doppie su doppie per la salernitana di Colantuono, che nella settimana che conduce a Lacio Sosta ha deciso di fare rifornimento. Arenamenti al mattino e al pomeriggio negli ultimi tre giorni, compreso oggi, mentre domani ci sarà una sgambatura con la primavera alla Rechi. Continua a gestirsi Riberi, che ha lavorato a parte anche ieri perché i postumi della botta al ginocchio sinistro vanno tenuti sotto controllo. Tra terapie e programmi personalizzati, Frank cerca di dare il suo contributo con la generosità che ha mostrato fin dal primo giorno. Mentre Ruggeri e Mamaduculi Bali restano ai box, Capezzi vede la luce in fondo al tunnel. Lunedì rientrerà in gruppo con la Sampdoria nel Mirino. Dopo la seduta di ieri pomeriggio, Gondo e Ranieri hanno abbracciato i rifiosi del Meet & Greet organizzato dal club presso lo store di piazza accaduti civili di guerra nel centro cittadino. Il traffico ha causato oltre un'ora di ritardo sulla tabella di marcia, ma i due sono stati ugualmente travolti dalla carica dei presenti. addirittura un bambino ha festeggiato il compleanno spegnendo la candelina con i suoi beniamini. E noi con lo sport concludiamo questa edizione della nostra rassegna stampa. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.